...i fratelli, purtroppo la società ci invita a chiuderci, ci invita a stare soli, a vivere nella solitudine, non ci apre agli altri, tante volte pensiamo che siamo solo noi al centro del mondo e che gli altri non vogliono nulla e i miei fratelli non mi importano, non mi interessano, no! Chi è misericordioso sa che il fratello mi appartiene e se il fratello mi appartiene non lo posso lasciare solo, anche se ha sbagliato, anche se si è rivoltato contro, ma il fratello è fratello perché me l'ha messo accanto Gesù. Allora, fratelli e sorelle, chiediamo al nostro santo Patrono Giorgio che questa sera invochi su ciascuno di noi, su tutti i maropatesi in modo particolare, la grazia divina. Dimenticavo al mio amico Giovanni Tomarco Capone mi pigliabono e lo devo ringraziare, grazie!